Allora, io credo innanzitutto che nel mondo di oggi le sfide della globalizzazione ci informano di conoscere il mondo globale, quindi di agire consapevolmente ogni giorno della nostra vita, quindi significa conoscere i prodotti che compriamo, significa conoscere da dove vengono, chi li fa, come li fa, e quindi questo significa essere cittadini consapevoli, se posso permettermi diciamo 2.0 per usare un'espressione molto in voga oggi. E quindi credo che si debba cercare di capire innanzitutto chi è il tuo prossimo, sia quando è dall'altra parte del mondo, sia quando decide di lasciare l'altra parte del mondo per raggiungere il luogo in cui noi viviamo. Quindi imparare cosa sono, conoscere le culture diverse, imparare lo spirito dell'accoglienza, della convivenza, della tolleranza e della condivisione. E credo che tutto questo passi attraverso la conoscenza. Io nel mio piccolo, con questo lavoro, ho voluto aprire una finestra su uno spaccato che è invisibile al giorno d'oggi, perché noi consideriamo i migranti come un problema che parte da Lampedusa, mentre invece i migranti sono innanzitutto una risorsa, ma sono comunque un bagaglio di storie che inizia a 5.000, 6.000 chilometri prima di Lampedusa. E quindi io ho voluto utilizzare la mia possibilità di viaggiare, di conoscere, mettendolo a disposizione degli altri. Credo che se ciascuno di noi, in tutto piccolo, metta a disposizione gli strumenti della propria vita per mettere in condizione gli altri di capire, di conoscere meglio, avrà reso un grande servizio alla sua società. Grazie.